Da domani accadrà che nelle scuole superiori un 25% solo di studenti potrà andare in presenza con criteri di rotazione o tra gli studenti di una classe o tra classi. Quindi di quattro settimane che sono interessate dall'ordinanza, sostanzialmente ogni studente farà una settimana in presenza e tre settimane collegandosi da casa. Comincia il periodo di quasi chiusura delle scuole superiori di tutto il Veneto. Da domani fino al 24 novembre il 75% delle lezioni dovrà essere svolto con la cosiddetta DAD, la didattica a digitale o a distanza, per uniformarsi al DPCM e all'ordinanza della regione. Saranno le scuole, ciascuna nella propria autonomia, a decidere le modalità organizzative più opportune, cercando di concentrare più a scuola le classi prime. Indicazione è questa che è contenuta anche nella prescrizione della regione, L'obiettivo in questo caso è di favorire l'inserimento degli studenti più giovani, anche se questa ipotesi è in realtà esclusa da questo DPCM poco elastico. Noi abbiamo accolto pienamente questa indicazione, questa raccomandazione dell'ordinanza regionale, tant'è vero che ieri pomeriggio, nell'incontro con i dirigenti scolastici, abbiamo proposto dei modelli vari, vari modelli flessibili, che in qualche modo permettono di mantenere più alta la percentuale di didattica in presenza, fino al 50% degli alunni della prima classe. Tutto sta adesso nelle mani dei dirigenti scolastici ad attuare il modello che più, diciamo, è confacente alla struttura della scuola e soprattutto alla potenza della rete che hanno a disposizione. La speranza è che si tratti di un momento transitorio che il ricorso alla didattica a distanza non debba segnare tutto il proseguio dell'anno scolastico, iniziato da appena 40 giorni. Se chiaramente la situazione dei contagi subirà una forte riduzione, allora possiamo davvero sperare di ritornare in presenza.